In questi casi dove c'è una aggressione ingiusta, soltanto posso dire che è lecito fermare l'aggressore ingiusto. Sottolineo il verbo, fermare, non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo. Ma dobbiamo avere memoria pure, quante volte sotto questa scussa di fermare l'aggressore ingiusto, le potenze si sono impradonati dei popoli e hanno fatto una vera guerra di conquista. Sul volo di ritorno a Seul a Roma, Papa Francesco ha intessuto un fitto dialogo con i giornalisti, sollecitato da 16 domande che hanno spaziato dal viaggio nella Repubblica di Corea agli scenari internazionali più preoccupanti. Dopo aver parlato della drammatica situazione in Iraq, dove il pontefice sarebbe anche disposto ad andare, l'attenzione è stata messa a fuoco sul Medio Oriente e sulla crisi israelo-palestinese. Quella preghiera per la pace assolutamente non è stata un falimento. Prima l'iniziativa non è uscita da me. L'iniziativa di pregare insieme è uscita dai due presidenti, del presidente dello Stato di Israele e del presidente dello Stato di Palestina. Adesso il fumo delle bombe, delle guerre, non lasciano vedere la porta, ma la porta è rimasta aperta da quel momento. Dinanzi ai tanti scenari di conflitto, alle situazioni di miseria e di disperazione in cui versano tante persone nel mondo, Papa Bergoglio ha anche toccato il tema della tortura. Ma noi dobbiamo fermarci e pensare un po' al livello di crudeltà al quale abbiamo arrivato. Ma questo si deve sfaventare. Oggi la tortura è uno dei mezzi quasi, direi, ordinari dei comportamenti, dei servizi di intelligenza, dei processi giudiziali. E la tortura è un peccato contro l'umanità. Inoltre un'ora di conversazione, Papa Francesco ha parlato poi del suo desiderio di andare in Cina, così come dei prossimi viaggi in programma. Certa la tappa a Filadelfia per l'incontro mondiale delle famiglie, cui potrebbe aggiungersi New York e Washington, probabili invece il Messico e la Spagna. Spazio anche alla prossima enciclica dedicata alla custodia del creato, alla vita condotta a Santa Marta, alle vacanze, all'insegna di un ritmo diverso, con più lettura, più riposo e più musica, e alla rapporto con Benedetto XVI, un uomo saggio che ha aperto la porta alla figura del Papa Emerito. Io penso che Papa Emerito è già un'istituzione. Perché? Perché la nostra vita si allunga e a certe età non c'è la capacità di governare bene. perché il corpo si stanca e la salute forse è buona, ma non c'è la capacità di portare avanti tutti i problemi di un governo come quello della Chiesa.